Buongiorno a tutti, allora mercoledì mattina ho fatto la ciclette in cui ho fatto anche il letto e ho sistemato un po' casa Poi di mattina mi pare che non sia venuto nessuno E niente, praticamente poi durante il pomeriggio Cioè praticamente sono venuti i dauli, c'è poi Luca, a parte quello niente E poi a parte quello nulla perché cose normali, cose della vita quotidiana dovevo tenere mio padre anche per aver fatto calvizio di tenersi sempre così Non ho capito perché però vabbè A parte quello nulla ci stanno montando i condizionatori, mamma non può andare all'appuntamento l'Inis4Cop per aver fatto come mezzo casino Vabbè, a parte quello nulla io adesso vi saluto Vi dico soltanto che in queste giornate ieri non ho fatto neanche E quindi mi sono sentita un po' tradita e cose del genere Adesso poi vi spiegherò perché Io adesso vi saluto, ci vediamo tra poco e con il video di oggi così almeno me lo devo Ciao!